La parola Judo si divide in due ideogrammi. Jú, che significa cedevolezza, e Do, che significa via. Allenarsi nel Judo significa raggiungere l'equilibrio perfetto tra cedere e agire. Significa imparare a conoscersi, così l'attacco diventa sforzo fisico. La difesa è sforzo mentale. Che è tutto esclusivamente per il bene comune. Mi chiamo Francesco Faraldo, il mio sogno era rappresentare il mio paese alle Olimpiadi e ci sono riuscito. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.